Domattina in Comune a Sanremo in programma l'Assemblea dei Sindaci, soci di Riviaracqua e in quella occasione il Presidente della Società Pubblica per la Gestione del Ciclo Idrico, Gian Alberto Mangiante, dovrà presentare il quadro economico, un documento in base al quale i sindaci conosceranno la reale situazione e quindi anche le cifre che ognuno dovrebbe versare per garantire il sostegno a Riviaracqua. Si parla di un buco di diversi milioni di euro e Mangiante ha chiaramente detto che la situazione non è in equilibrio e nemmeno tranquillizzante, non escludendo il ricorso al concordato preventivo per cercare di salvare la società. Resta ora da capire i sindaci domani cosa decideranno di fare. Le sorti di Riviaracqua sono legate anche a quelle di una ventina di imprese per un totale di circa 250 lavoratori. Si tratta di ditte che avanzano in totale oltre 3 milioni di euro per servizi resi alla società pubblica e che se non vedranno saldate le loro fatture rischiano a loro volta di fallire. Insomma una situazione per nulla tranquillizzante.